Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di personale su strada in FIPD tra Firenze e Scandici e Scandici in direzione Mari. Siamo al traffico ferroviario per una riprogrammazione dell'offerta commerciale. Quest'oggi 5 treni regionali sulla linea Firenze-Borgo-San Lorenzo sono cancellati sull'intera tratta e sostituiti da bus. Siamo al trasporto pubblico locale. Dal 1 settembre verrà attivato, oltre al nuovo hub di Vittorio Veneto, anche l'hub di interscambio di bus extraurbani a Montelungo. Complessivamente 24 linee provenienti da Empolese-Valdelsa, Chianti, Mugello, Alto Mugello, Valdisieve e Valdarmo si attesteranno nei due nuovi nodi anziché entrare in zona stazione. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Buon versine Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Chirenze e comune di Chirenze. Per ora è tutto, buon viaggio!